Bentornati, bentornati. Consideriamo queste due frazioni, 11 diciottesimi e 5 ottavi. Vogliamo stabilire quale delle due è maggiore. Cioè, se hanno tre possibilità, o 11 diciottesime maggiore di 5 ottavi, oppure le due frazioni sono uguali, o ancora 11 diciottesime minore di 5 ottavi. Vediamo insieme tre modi diversi per arrivare alla risposta. Un primo metodo che ho chiamato standard, che è quello spiegato nella maggior parte dei libri di matematica, che funziona molto bene, però non permette di rispondere alla domanda in pochi secondi, come promesso nel video. Vediamo quindi una seconda procedura, molto più rapida, e infine un terzo metodo più intuitivo. Allora, la procedura tradizionale è quella di riscrivere le frazioni con un denominatore comune e poi confrontare i due numeratori. Calcoliamo quindi il minimo comune multiplo tra 18 e 8, che sono i due denominatori. 18 è uguale a 2 per 3 alla seconda, 8 è 2 alla terza, quindi il minimo comune multiplo, cioè il multiplo comune più piccolo, è uguale al prodotto dei fattori presi con esponente massimo, quindi 2 alla terza per 3 alla seconda, cioè 8 per 9 che fa 72. Quindi 72 è il numero più piccolo che è divisibile sia per 18 sia per 8. Ora, 72 diviso 18 fa 4, cioè per passare da 18 a 72 abbiamo moltiplicato per 4, e quindi anche il numeratore va moltiplicato per 4. Altrimenti non si otterrebbe una frazione equivalente. In modo analogo, per andare da 8 a 72 abbiamo moltiplicato per 9, quindi anche il 5 va moltiplicato per 9. Quindi le due frazioni sono equivalenti a 44 settantaduesimi e 45 settantaduesimi. E dato che 44 è minore di 45, allora 11 diciottesimi è minore di 5 ottavi. Questo procedimento va anche molto bene quando abbiamo tante frazioni da ordinare. Ma ora vediamo un metodo molto più rapido per quando dobbiamo confrontare due frazioni. Riprendiamo quindi le frazioni di prima e moltiplichiamo il denominatore della prima per il numeratore della seconda frazione. 18 per 5 si fa infrettamente, perché 18 per 10 fa 180, quindi 18 per 5 fa la metà, cioè 90. Invece 11 per 8 è uguale a 88. Siccome 88 è minore di 90, possiamo concludere che 11 diciottesimi è minore di 5 ottavi. Ora, la matematica non è matematica se le procedure non sono dimostrate, cioè se non si spiega perché questo metodo funziona. Ma la ragione è molto semplice. Infatti, se noi vogliamo applicare il metodo precedente e scrivere le due frazioni con un denominatore comune, questo denominatore comune non deve essere per forza il minimo comune multiple, ma può essere un multiplo comune qualsiasi. Si sceglie il minimo solo per semplificare i calcoli. Io come multiplo comune potrei anche prendere 18 per 8, che fa 144, quindi riscrivere le due frazioni con denominatore 144. Per calcolare quindi il numeratore della prima frazione devo fare 11 per 8, perché il 18 è stato moltiplicato per 8, allora anche l'11 deve essere moltiplicato per 8, che fa 88. Stessa cosa la seconda frazione, 5 per 18 uguale 90. Cioè, in altre parole, devo fare una moltiplicazione a croce. Quindi queste due moltiplicazioni a croce ci danno i rispettivi numeratori con un denominatore comune che non conosco, ma l'importante è che sia lo stesso denominatore. E quindi questo mi dà proprio il confronto dei numeratori. Vedete, il metodo è molto più rapido del precedente. È un metodo carino, però prevede una procedura che bisogna ricordare. Invece vediamo l'ultimo metodo, quello più intuitivo, nel quale si procede senza ricordare una procedura specifica. Ma semplicemente si può notare che 11 diciottesimi e 5 ottavi sono entrambe leggermente più grandi di un mezzo. Infatti 11 diciottesimi e 9 diciottesimi, che sarebbe un mezzo, più due diciottesimi. Mentre 5 ottavi è 4 ottavi più un ottavo. Ma semplificando, la prima frazione viene un mezzo più un nono, mentre la seconda è un mezzo più un ottavo. Ora è evidente che un nono è più piccolo di un ottavo e quindi 11 diciottesimi è minore di 5 ottavi. Se questo video ti è piaciuto ti potrebbe anche interessare quest'altro, molto carino, che spiega come calcolare molto velocemente le percentuali. Ad esempio sapresti dire se è più grande il 14% di 50 o il 50% di 14? Inoltre ti ricordo che sul mio canale ci sono tantissimi contenuti di matematica e fisica, nei quali i concetti occupano sempre il primo posto. Quindi se vuoi seguirmi iscriviti al canale e accendi la campanella. Ciao e grazie!